C'è aria tesa in casa Ugi Manduria. Le dimissioni del vicepresidente Giovanni Di Noi hanno scosso l'ambiente bianco-verde, dando il via a uno scontro pubblico a colpi di comunicati stampa e post sui social con il presidente Fabio Di Maggio. Poco dopo l'annuncio del numero 2 dell'Ugi Manduria, Di Maggio ha voluto chiedere alcuni aspetti sull'uscita di scena del suo vice, parlando di una decisione già presa dai vertici societari durante un consiglio direttivo, da cui Di Noi si sarebbe defilato in anticipo. Un'affermazione che sembra voler ribaltare la versione delle dimissioni volontarie dell'oramai ex vice, suscitando l'immediata reazione di Di Noi, che si è difeso con un tono secco, smettendo le dichiarazioni del presidente attraverso una lettera aperta ai tifosi. Non c'è mai stato alcun consiglio direttivo né tantomeno una decisione, avevo già meditato di lasciare. Ho contattato immediatamente i soci del consiglio direttivo, i quali mi hanno comunicato di non aver ricevuto alcun avviso inerente alle riunioni e alla mia situazione, ha scritto netto di Noi, rivendicando la sua versione. Mi ha detto che ero insostituibile, ha aggiunto. Di maggio intanto ha ribadito che sono stati commessi degli errori e ha sottolineato i sacrifici economici che sta portando avanti come unico finanziatore, investendo, dice, oltre 50.000 euro al mese, chiarendo però di non voler tirarsi indietro per niente e nessuno. Chiedo cortesemente di essere lasciato in pace, una volta per tutte sarò sempre a fianco dei tifosi. Ha invece ribadito di Noi nella lettera, lasciando su Lugimanduria un clima ancora lontano dalla serenità. Grazie. Grazie 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 Grazie